Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, iniziamo parlando di sicurezza e di una delle zone che appunto di più necessitano di attenzione nella città di Arezzo. Adesso parliamo dei giardini del Porcinai, poche settimane fa proprio in questa zona ci fu, lo ricorderete, l'aggressione l'ennesima ad uno studente. Adesso arrivano illuminazione e 11 nuove telecamere. 11 telecamere di nuova generazione vigileranno sui giardini del Porcinai e nelle zone limitrofe e poi una maggior rilluminazione in quell'area di fronte alla stazione di Arezzo, spesso teatro di degrado, microcriminalità e episodi violenti. Così si è concluso il tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Maddalena De Luca, al quale hanno preso parte associazioni di categoria Forze dell'Ordine e Comune. È una situazione che noi da tempo avevamo alla nostra attenzione e ieri sono stati messi a punto degli interventi operativi, quindi un intervento coordinato da un lato, un intervento antidegrado per cui una maggiore illuminazione, un maggior controllo dal punto di vista proprio dell'utilizzo dei giardini del Porcinai e poi maggiori servizi, servizi dedicati, servizi antidroga, insomma un'azione a 360 gradi. Soddisfatte Catiuscia Fei e Valeria Alvisi, direttrici rispettivamente di Confcommercio e Confesercenti, che nei mesi scorsi in più occasioni avevano raccolto le preoccupazioni dei commercianti della zona. Il prefetto, hanno dichiarato, ha mostrato la massima disponibilità a mettere in atto azioni concrete mirate a prevenire e se necessario reprimere fenomeni che contribuiscono ad alzare la percezione di insicurezza tra chi vive, lavora e frequenta la centralissima zona. Ore di apprezzione per la sorte dell'imprenditore aretino Samuele Landi, che potrebbe risultare tra i dispersi in seguito ad una tempesta nel Mar Arabico. Le informazioni sono ancora frammentarie, arrivano dalla Farnesina. Quello che è sicuro è che uno yacht di cui Landi è proprietario è naufragato nei giorni scorsi in seguito ad una tempesta. Due i corpi che per il momento ha restituito il mare ormai senza vita. Il nome dell'aretino è legato, lo ricorderete, alla vicenda Agile Eutelia, nella quale persero il lavoro circa 2000 persone. Il 23 ottobre scorso la Corte d'Appello di Roma, sezione 3 penale, si era espressa sulla bancarotta fraudolenta, condannandolo a 6 anni e 6 mesi. Landi aveva tra le sue volontà quella di impugnare la sentenza e arrivare in Cassazione. Adesso la notizia della probabile scomparsa della tempesta, quantomeno in cui potrebbe essere rimasto coinvolto. Il suo cellulare avrebbe smesso di squillare e ricevere messaggi da giorni. Lo stesso legale di Landi, Amedeo Di Segni, avrebbe tentato appunto di contattare Landi negli ultimi giorni, ma senza successo. Sarebbero in corso degli specifici accertamenti, tra cui l'esame del DNA e quello delle impronte dentali, proprio per svelare l'identità appunto delle due salme. Rischia 8 anni di carcere in Albania. Davide Pecorelli, l'imprenditore ex arbitro biturgenze, che lo ricorderete, era scomparso nel gennaio del 2021 a Puca, dove era stata poi ritrovata l'auto bruciata. 9 mesi dopo era stato poi ritrovato vivo a bordo di una barca vicino all'isola di Monte Cristo. I reati che gli vengono contestati sono due, la truffa aggravata dall'evento e l'attraversamento a piedi delle frontiere. Oltre al procedimento penale in Albania, Pecorelli è stato giudicato anche in Italia, il Tribunale di Grosseto e quello di Perugia, accusato di auto calugna e sostituzione di persona. E adesso invece torniamo sul furto perpetrato ai danni dei magazzini comunali di Sansepolcro. Nelle scorse ore è stato ritrovato il furgone. È stato ritrovato a poche ore dal furto, a centinaia di chilometri di distanza dal magazzino del comune di Sansepolcro, che era stato completamente svuotato. Il furgone, un Fiat Ducato che i ladri hanno utilizzato per trasportare l'ingente bottino, è stato ritrovato davanti a un bar di Caserta. Il colpo era stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì. La banda era prima entrata nel capannone, aveva caricato gli attrezzi, tagliaerba, motoseghe e decespugliatori sul mezzo, poi si era data alla fuga, ma prima aveva preso di mira anche la struttura adiacente, la sede locale di Sei Toscana, da dove aveva portato via centinaia di litri di gasolio. Ingeante dunque il bottino che potrebbe sfiorare 100.000 euro. Un danno veramente rilevante, per quanto ci riguarda uno dei più grossi furti mai effettuati alla nostra attrezzatura, tra l'altro oltre che il danno c'è anche la beffa, perché i nostri operai sono veramente adesso anche sguarniti del materiale col quale devono operare quotidianamente, ora ci stiamo già attrezzando per il riacquisto dei materiali più urgenti, delle attrezzature più urgenti e quindi ci stanno mettendo anche in difficoltà dal punto di vista operativo. Adesso il mezzo è stato ritrovato, è stato lo stesso titolare del bar campano a chiamare il comune per segnalare la presenza del camion abbandonato. Proseguono intanto le indagini della polizia di Stato, sul posto è già intervenuta la scientifica, si cerca una banda specializzata in furti di questo genere. Ci auguriamo che queste indagini possano avere un esito positivo e di sicuro noi continueremo per quello che è possibile a mantenere alta la guardia sul controllo del territorio con i sistemi di videosorveglianza che sono comunque uno strumento indispensabile. Certo quando ti trovi di fronte a dei delinquenti professionisti, spesso e volentieri, purtroppo ci sono pochi mezzi che li possono contrastare. Sequestrati 4 milioni di euro a un imprenditore residente nell'Arettino, l'articolata ricostruzione patrimoniale è stata condotta dal raggruppamento operativo speciale su delega della procura distrettuale di Firenze. Il destinatario del provvedimento si trova già in carcere dal 2021. Il sequestro è legato all'operazione Calatruria che nell'aprile 2021 aveva visto l'esecuzione di 17 misure cautelari nei confronti di altrettante persone accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata all'estruzione, illecita concorrenza con violenza e minaccia, subappalto irregolare e altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso dall'aver agevolato l'andrangheta. Adesso invece apriamo una pagina dedicata al giorno del ricordo che ricorre domani 10 febbraio, proprio domani a Laterina, la seduta solenne del Consiglio regionale. L'appuntamento è alle 11 presso il teatro comunale appunto del Comune del Valdarno perché proprio a Laterina, come sappiamo, insomma c'era il campo profughi e proprio un ex profugo ai nostri microfoni ha detto spero che presto lì nasca un museo. Sentiamo. E il mio primo ricordo, non avevo ancora tre anni, mia zia a Rovigno mi portò a prendere un po' di sole e un primo pomeriggio del 10 ottobre del 43, io sono nato a dicembre del 40, e ci portò vicino al mare, io sono di Rovigno, disti, una città meravigliosa, e vicino a questo albergo che era diventato da qualche giorno il comandantur dei tedeschi, improvvisamente uscirono i loro soldati, ci circondarono con i mitra, ci spinsero verso il porto vicino a pochi decini di metri, arrivò un piccolo pulmino e a calci fu buttato giù un ragazzo di 20 anni, pieno di sangue, un partigiano, croato, e ci obbligarono ad andare vicino dove c'era un lampione austro-ungarico meraviglioso di ferro e dovevamo assistere alla sua impiccagione, ripeto, non avevo ancora tre anni. Riccardo Simoni, oggi geriatra, in pensione nel secondo dopoguerra, fu uno dei tanti italiani, lui era solo un bambino, ospitati dal centro raccolta profughi di Laterina in provincia di Arezzo. La sua famiglia partì da Rovigno, in Istria, nel luglio del 1951. Lì arrivarono gli italiani in fuga dall'Istria, da Fiume, dalla Dalmazia, dopo una delle pagine più complesse e dolorose della storia italiana, la vicenda del confine orientale nel secondo dopoguerra e le foibe. Ho parenti che hanno subito le foibe, ho parenti di mia moglie scomparsi, dispersi nelle nevi del Don, mai più ritornati, 150 partigiani su una cittadina di 9.000 abitanti morti nella lotta, 50 non tornanti di lager, mio padre tornò piuttosto magro dopo 7 anni. dal 49 al 50 il clima diventò terribile, asfissiante, come raccontato. Cioè c'aveva paura persino di parlare con i compagni di elementari per paura delle schiaro. Eravamo fortemente italiani, abbiamo pianto in famiglia quando arrivò la notizia della distruzione del Torino a Superga, cantando il nostro inno nazionale. A distanza di tanti anni dopo l'istituzione in Italia nel 2004, dopo anni di oblio del giorno del ricordo, Simoni spera di poter inaugurare un museo in uno degli ex alloggi del campo di Laterina, così come ipotizzato alcuni anni fa dalla regione toscana. Voglio dire, anni fa avevano detto che l'ultimo rudere di baracca l'avrebbero acquistato e fatto un museo. Io aspetto con ansia che rispettino le loro promesse, perché tra un po' non c'è più niente. Bene, costerebbe anche poco, tra tanti sprechi. Bisognerebbe che l'esperienza di 10.000 persone composite, eravamo noi, era gente da Tripoli e gente da Tunisi, dalla Grecia, di tutti i colori dove sono venuti. È un ricordo, perché la pena di chi aveva una casa e dopo un giorno si trovava in questa realtà e si sforzava di non piangere, qualcuno si è anche ammazzato, questo è vero. Spero che, insomma, di vederla a tagliare quel nastro che magari la... Vivo volentieri. Volevo dire, chi ha tempo, finché ci sono, può venire a casa mia, sono miliardi di libri, mio figlio è ingegnere e non so che fine faranno tutti i gioielli cartacei che fanno parte della mia storia, della mia ricerca e della ricerca costante, non mi fermo mai. Parlando ancora del giorno del ricordo, a Cortona è stato celebrato assieme alle scuole. Noi siamo qua con i ragazzi delle scuole per far capire l'importanza e sono loro stessi portatori l'importanza del ricordo e in questo caso appunto delle foive di un massaco che ha segnato la storia italiana. Il giorno del ricordo a Cortona è stato dedicato agli studenti. Nella Sala del Consiglio Comunale, le memorie e la storia, conferenza di Guido Giacometti, coordinatore regionale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Quest'anno abbiamo avuto una forte spinta a livello governativo, perché la presenza del Consiglio dei Vinistri ha istituito un comitato di cui facciamo parte, per le celebrazioni, e da lì sono diventate altre conseguenze. È stato organizzato un treno che ripercorre il viaggio del ricordo, è stato finanziato un museo. L'incontro al quale hanno preso parte gli studenti delle scuole superiori cortonesi ha preso spunto dalla frase del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un destino comune a molti popoli dell'est europeo, quello di passare direttamente dall'oppressione nazista a quella comunista. Il giorno del ricordo è una data importante insieme alla giornata della memoria da far conoscere ai nostri ragazzi delle superiori, degli istituti scolastici. Non devono esserci stragi che si differenziano per colore politico, bisogna conoscere e approfondire la storia in tutti i suoi aspetti affinché questo non avvenga mai più. È fondamentale per la nostra storia e soprattutto per le nuove generazioni, in quanto questa è una parte della storia italiana che viene spesso dimenticata. E oggi la Polizia di Stato ha ricordato a Rondine, cittadella della pace, Giovanni Palatucci, ultimo questore di fiume, riconosciuto giusto fra le nazioni. Era il 10 febbraio del 1945 quando Giovanni Palatucci, ultimo questore di fiume, morì nel campo di sterminio di Dachau. Rondine, cittadella della pace dal 2021, ospita un olivo donato dalla questura di Arezzo e il ricordo della sua figura, proprio accanto all'arena di Gianin, inaugurata in occasione dell'ultima testimonianza pubblica di Liliana Segre. Sia la memoria di questo giusto tra le nazioni, sia il luogo, Rondine, lanciano un grande messaggio di pace, ma direi di pace possibile. E anche oggi, nell'anniversario della morte, nel Borgo è stata celebrata la sua memoria. Questo gesto che si ripete ogni anno ci fa sempre molto piacere e ogni anno, ahimè, sembra che ce ne sia sempre più bisogno per ricordare come ognuno di noi deve essere vigilante contro ogni forma di razzismo, di discriminazione, l'antisemitismo, ma anche l'islamofobia e tutte le altre forme che separano le persone. L'ulivo è un segno di pace e la Polizia di Stato celebra anche la prossimità nei confronti del cittadino e quindi opera anche in segno di pace nel ricordo di Palatucci. Giovanni Palatucci, da questore reggente di Fiume, salvò la vita migliaia di ebrei, italiani e stranieri, sfidando le leggi razziali. La distruzione del materiale documentario riguardante gli ebrei e l'accoglienza delle richieste di mettersi in salvo testimoniano il suo coraggio incondizionato. Un gesto eroico pagato con la vita dopo essere stato deportato nel campo di concentramento nazista di Dachau. Morì a 36 anni, pochi mesi prima della liberazione del campo di sterminio. Impegno e responsabilità che è talmente tanto forte che non consideri i rischi e quindi anche le estreme conseguenze. È un esempio, è un dovere di ricordo patrio rispetto a un momento straordinariamente drammatico della storia d'Italia che peraltro è venuto alla luce anche un po' in ritardo rispetto ad altri fatti ma che oggi fa parte della esperienza civica di questa nazione. Per le sue azioni eroiche, dal 1990 Israele lo è inserito tra i giusti delle nazioni. Nel 1995 invece lo Stato italiano gli ha attribuito la medaglia d'oro al merito civile. è stato intitolato ad Enrico Berlinguer il parco pubblico lungo via Brunetto Bucciarelli-Ducci ad Arezzo. La cerimonia dell'inaugurazione, la svelatura della targa si è svolta proprio questa mattina alla presenza dell'assessore Alberto Merelli. L'intitolazione fa seguito ad una delibera della giunta comunale del maggio 2023 su proposta del centro di iniziativa Enrico Berlinguer a seguito di una petizione popolare del 2021. Storico leader del PC, Berlinguer è stato fra le figure più influenti della Prima Repubblica di cui fu tra i protagonisti. L'intitolazione del parco cade proprio nell'anno in cui ricorrono i 40 anni dalla morte avvenuta nel 1984. Con il prossimo servizio parliamo invece di orientamento per gli studenti di terza media che ovviamente dovranno fare l'importante scelta della scuola superiore e hanno potuto conoscere il DNA Lab. Vengono pezzi di pomodoro, la ributtate dentro. Va bene? Piano piano. Il DNA Lab apre le sue porte agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Il progetto vede infatti unita l'EITIS Galileo Galilei di Arezzo e l'istituto comprensivo 4 novembre. Queste attività vogliono appunto avere una funzione orientante ovvero mostrare le possibilità di scelta che ci sono nei vari percorsi scolastici. Poi il ragazzo in base alle sue inclinazioni e interessi avrà facoltà di scegliere liberamente. Gli studenti hanno potuto toccare così con mano il laboratorio dedicato esclusivamente alle analisi sul DNA. Venire ai laboratori, portare i ragazzi di terza media ai laboratori dell'istituto tecnico-industriale in particolare al laboratorio di genetica, di DNA è in quest'ottica un'azione di orientamento e di promozione anche di percorsi scientifici, tecnologici che i ragazzi magari immaginano siano fuori dalla loro portata delle scelte. Invece sono vicine e sono possibili. Un percorso sostenuto anche dal progetto Donne Scienza realizzato con il contributo dell'assessorato Immigrazione, Integrazione e Pari Opportunità del Comune di Arezzo. Noi sappiamo dai dati che le donne che si avvicinano alle facoltà scientifiche sono molto minore rispetto agli uomini. Dare l'opportunità a delle ragazze, delle giovani donne che stanno per scegliere la scuola superiore di fare delle esperienze in laboratorio come quello di Itis, che è una scuola eccellente del nostro territorio, è stato per noi un grande orgoglio e soprattutto un utile mezzo per farlo conoscere. Allerta meteo per le prossime ore è stata emessa un'allerta di tipo giallo da parte della protezione civile regionale soprattutto per la parte nord della Toscana per rischio idrogeologico e idraulico per il reticolo minore valida a partire proprio dalle 20 di questa sera e per tutta la giornata del 10 di febbraio. Arezzo si conferma tra le città più cardioprotette d'Italia non soltanto nei luoghi del centro ma anche nelle periferie. Un defibrillatore automatico è stato infatti donato oggi al comune di Arezzo da Tecno Sicurezza e sarà installato nella frazione di Poggiola. Grazie a questa donazione salgono a 29 i defibrillatori in dotazione appunto al comune di Arezzo. Per la pagina invece dello spettacolo parliamo di un nuovo cortometraggio che sarà realizzato in primavera con attori con disabilità intellettiva della prima scuola di formazione professionale specifica di cinema in Italia ovvero la Poti Picture Academy. Non si tratta soltanto di insegnare tecniche di recitazione ma di favorire un ambiente in cui queste persone possano esprimere se stesse al massimo delle loro capacità superando ovviamente ogni barriera. Il risultato finale appunto un cortometraggio che rappresenta in modo autentico le loro abilità e la loro creatività. La classe è formata da otto aspiranti attori Sara, Francesco, Andrea, Rossella, Anna Maria, Ejup, Paolo e Giuseppina. Io qui ci verrei tutti i giorni dice uno di loro, Sara in particolare. Farei qualsiasi cosa mi chiedete da quando vengo qui. vedo le cose in maniera diversa e mi sento più sicura. Adesso siamo invece alla pagina dello Sport. L'Arezzo affronta tra poco il Ponte d'Era. È chiaro, si sa che c'è un altro turno più corto di questo perché queste almeno cinque giorni sono quattro addirittura però non c'è un dizione non è che facciamo la preparazione di questa partita pensando che ci sia assolutamente. Il 9 quello se lo fai indipendentemente da Cesena poi mi insegni che è la terza partita magari il problema più per la stanchezza. La seconda a distanza di cinque giorni non ci può essere. Magari la terza sì dopo la terza dopo nove giorni sì ma la seconda no. Senza dubbio è la squadra che gioa libera e fa un calcio veramente propositivo è molto bene è chiaro l'ambiente ti permette anche di perdere 0-5 in casa o di prendere che so quattro go a Cesena alla prima mezz'ora però però stanno facendo un calcio veramente molto bello ecco anche l'ultima credo sia testimonianza a livello di Dio la vittoria in trasferto del 5-4 credo che non si trovi tanto negli annali del calcio però veramente complimenti a loro. Ultimo incontro casaringo della prima fase per l'AMNBC Servizi parliamo ovviamente di basket domenica prossima al Palasport Estra arriva la Computer Gross Empoli Domenica 11 febbraio alle 18 al Palasport Estra l'AMNBC Servizi Arezzo affronterà la Computer Gross Use Empoli seconda forza di questo girone di serie B Empoli guidata in panchina da coach Valentino è costruita attorno alle esperienze e alle qualità tecniche di Rosselli la miglior difesa del campionato oltre a questo la Computer Gross può vantare anche il capo classifica dei marcatori Luca Giannone l'AMNBC Servizi è dunque chiamata a riscatto dopo l'opaca prestazione di Luca dove purtroppo ha confermato le difficoltà negli incontri lontani al Palasport Estra obiettivo primario degli amarantori coach evangelisti sarà quello di ridurre il numero di palle perse che è diventato nelle ultime uscite un fattore negativo oltre a mettere in campo quella carica agonistica che ha permesso alla SBA di compiere vere e proprie imprese davanti al pubblico amico dove si sono dovute arrendere Virtus Siena e Cecina l'AMNBC Servizi cercherà dunque anche la spinta del proprio pubblico in questa ultima uscita della prima fase per cercare di prendere fiducia in vista dei prossimi impegni è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per l'ascolto e arrivederci